Cuba! La rivoluzione cubana! Seguiranno luce e seguiranno resistendo! L'assegno non è ancora arrivato! Sergio, non ho neanche la carta per stampare il giornalino scolastico! Mi sono rimaste soltanto le lezioni! Verranno tempi migliori! Marianita, amore mio, non dire mai una parola a nessuno di quello che facciamo in cucina! Come della radio clandestina! Sergio, ci sei? So che ho stato attraversando un brutto momento! Sergio, ci è rimasto solo il ghiaccio! E usciremo, non preoccuparti! Chi sta parlando? Pepe! India Romeo, in the Orbital Station! Dalla stazione spaziale Mir, vuoi dire? Ma tu parli in russo! Ingegnere? No! Filosofo! Marxista! Sei in contatto con la Mir? Ha appena battuto il record di permanenza nello spazio! L'Unione Sovietica non esiste più! Non abbiamo nemmeno i fondi per pagare gli stipendi! Non sarà facile organizzare il tuo ritorno! Peter, Sergei è nei guai e penso che noi possiamo aiutarlo! Hai buoni contatti in quel campo, anche nella NASA! Sì, insomma, conosco qualcuno! La NASA? Corre in soccorso dell'ultimo cosmonauta sovietico abbandonato nello spazio! Dovremmo trovare uno sponsor per coprire le spese! Non scoraggiarti, Sergei! Spasiba, compagnero! Spasiba, 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 sp